Cari delegati, cari delegati, cari soci e soci, cari ospiti e compagni di viaggio, buon pomeriggio e ari benvenuti al XII Congresso Nazionale di Rega Ambiente. Siamo arrivati alla fine di una lunga stagione congressuale iniziata un anno fa, quando alle Nauli di Rispescia, prima dell'avvio della nostra Assemblea Nazionale dei Circoli, abbiamo condiviso l'impostazione degli appunti per il documento congressuale che abbiamo approvato nel giugno scorso dopo dieci approfonditi confronti nei diversi organi associativi. Negli ultimi due mesi e mezzo poi abbiamo organizzato le 18 assemblee regionali con cui i nostri circoli hanno discusso dei cantieri che servono nei loro territori, hanno rinnovato i vertici e gli organi dei nostri comitati regionali. È stato un viaggio impegnativo che ci ha visti discutere, approfondire, scrivere insieme lo schema di gioco e la strategia da adottare nella difficile ma esaltante partita della transizione ecologica che ci aspetta nei prossimi quattro anni, con uno straordinario esercizio di democrazia che con orgoglio rinnoviamo a ogni mandato congressuale. È sempre molto emozionante arrivare al nostro congresso nazionale, un evento fondamentale nella storia di lega ambiente a cui abbiamo dedicato una delle pubblicazioni che trovate nella cartellina, La Nostra Storia, curata da Francesco Loiacono e Fabio Dessi, in cui abbiamo fatto raccontare da chi li ha vissute le 11 assise congressuali nazionali dal 1983 a Urbino al 2019 a Napoli, organizzate nei 43 anni di vita della nostra associazione. Ci sono i contributi di Ermete, di Francesco, di Roberto, di Massimo Scalia, di Renata Ingrao, di Massimo Serafini. Ci sono i contributi di tutti quelli che hanno costruito mattone dopo mattone questa grande muraglia associativa. E' altrettanto emozionante sapere che in queste ore parte degli 800 delegati chiamati a decidere il prossimo futuro di lega ambiente è in viaggio verso Roma, dopo che noi, da Roma, abbiamo vaggiato in tutta Italia per partecipare alle 18 assemblee regionali, ascoltando tutte le vostre idee e sollecitazioni su come costruire il nostro impegno associativo nei prossimi quattro anni. condivido con voi innanzitutto quattro sentimenti. Il primo è la felicità personale e associativa nell'avere con noi oggi Giorgio Zampetti, il nostro direttore generale. Grazie. 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 Il nostro direttore generale che quattro anni fa non aveva potuto partecipare al congresso di Napoli. In quel congresso avevo definito Giorgio come una Ferrari scintillante che sarà ferma ai box per ancora qualche settimana per ripartire con ancora più grinda e benegazione, gentilezza e fermezza, testa e cuore che lo rendono un dirigente imprescindibile per la nostra associazione. È avvenuto esattamente questo nel mandato congressuale che si è appena concluso. Devo dirvi che guidare l'Egambiente condividendo pensieri, preoccupazioni, azioni e soluzioni con Giorgio e con Nunzio Cirino Croccia, il nostro amministratore, la terza carica statutaria apicale, è come guidare un giambo facendolo con la leggerezza e l'agilità di un'aquila reale. Il secondo sentimento è la massima riconoscenza nei confronti di quegli scienziati che grazie al loro lavoro ci hanno permesso, a soli tre anni e mezzo dall'esplosione della pandemia, di poter tornare in un'assemblea gremita di persone da ogni parte d'Italia. Molte volte nel 2020 ho pensato in che modo avremmo potuto organizzare questo congresso nazionale nell'era Covid. La risposta è davanti ai nostri occhi ed è per questo che li ringraziamo. È per questo che dico viva la scienza e lo dico da presidente dell'Associazione dell'Ambientalismo Scientifico, con ancora più nettezza nel Paese dove la cultura antiscientifica continua a coltivare un substrato culturale fuori dalla realtà, tra chi pensa che la terra sia piatta e chi vede scie chimiche in cielo e complotti dappertutto. Come è accaduto anche per la diffusione della xylella fastidiosa in Puglia, che ha distrutto una parte del paesaggio e dell'economia di quella regione, a causa di un dibattito surreale a cui hanno partecipato anche alcuni stregoni, portando sostanzialmente all'inazione di buona parte delle istituzioni, mentre la sputacchina passava da un ulivo all'altro, devastando prima il Salento per arrivare poi in provincia di Bari. Il terzo è la gratitudine a chi ha reso possibile l'organizzazione di questo congresso. Un evento associativo di una complessità davvero rilevante, con un duro lavoro iniziato mesi fa e che continuerà dietro le quinte anche in questo fine settimana. Ne approfitto anche per ringraziare di cuore tutta l'Associazione per il lavoro fatto nei quattro anni scorsi. Abbiamo pulito il mondo, abbiamo pulito le spiagge, anche quando non si potevano fare assembramenti, nel pieno rispetto della normativa anti-Covid. Abbiamo contato i rifiuti in spiaggia, abbiamo contrastato progetti sbagliati e benedetto la realizzazione di quelli giusti. Abbiamo manifestato contro la guerra e promosso iniziative contro i femminicidi. Conosciamo bene l'impegno incomiabile e i sacrifici che fanno i nostri volontari, i nostri circoli, i nostri comitati regionali. Conosciamo bene le loro serate, i loro fine settimana, le notti insonni perché sono in missione per conto del cigno. Conosciamo bene l'attività di servizio fatta dagli uffici della direzione nazionale e il lavoro che fanno i nostri legali del centro di azione giuridica e gli esperti del nostro comitato scientifico che si supportano da volontari nelle nostre attività nazionali e locali. È stato un lavoro collettivo che abbiamo sintetizzato nel bilancio di mandato che trovate in cartellina curato da Serena Carpentieri, la nostra vice direttrice nazionale in un quadriennio dalle difficoltà davvero inimmaginabili. E come ricorda il titolo di questa pubblicazione preziosa ci siamo fatti in quattro. per lasciare ancora una volta un segno nella storia del nostro Paese. Abbiamo fatto cose davvero straordinarie, persino incredibili. Ne cito solo due tra le tante. Negli anni del distanziamento fisico a causa della pandemia siamo riusciti ad allargare la base associativa con ben 68 nuovi circoli a dimostrazione che in questo Paese c'è una grande voglia di legambiente. Negli anni del presunto disimpegno giovanile raccontato da alcuni media abbiamo costituito un coordinamento nazionale giovani e 18 coordinamenti regionali che ci hanno permesso di organizzare raduni nazionali per i nostri under 35 sempre più partecipati. dagli 85 partecipanti a Roma nel 2019 ho sentito da dove è partito l'applauso. dagli 85 partecipanti a Roma nel 2019 siamo passati ai 350 di Pestum nel 2023 con numeri ormai vicini a quelle delle nostre assemblee nazionali dei circoli a Grosseto. È stato fatto un miracolo e ringrazio le attiviste e gli attivisti del coordinamento giovani e Mattia Lolli che li ha guidati per averlo reso possibile. Piccola nota a margine in quest'autunno congressuale abbiamo rinnovato un terzo dei vertici dei comitati regionali e la mità di loro vengono proprio dal nostro coordinamento giovani che era uno dei motivi per cui abbiamo fatto nascere i coordinamenti non l'unico, non il solo, ma uno di questi era proprio questi risultati che abbiamo ottenuto ci hanno dato ragione. Il quarto sentimento, permettetemelo è la grande commozione nel ricordare che questo è il primo congresso nazionale da 35 anni a questa parte organizzato senza la nostra amata Rita Tiberi. Rita che sorride con quella espressione inconfondibile con cui si apre la pubblicazione sui congressi nazionali della nostra storia. Non so cosa ne pensate ma sarebbe davvero bello dedicare questo dodicesimo congresso nazionale di lega ambiente alla memoria di Rita un modo per averla simbolicamente insieme a noi anche stavolta. L'assemblea congressuale marchigiana dello scorso 15 ottobre era stata dedicata alla memoria di Assunta a Maria Brachetta una delle colonne del nostro Pantheon associativo e ne approfitto per mandare un grande abbraccio associativo a Fabio. Le avvocate e gli avvocati del nostro centro di azione giuridica hanno deciso di dedicare il congresso nazionale del CEAG che si terrà domani in una delle sale di questo auditorium alla memoria del nostro compianto amico Luca Petrucci che ricordiamo tutti con grande affetto e ne approfitto per mandare un forte abbraccio anche a Maria Teresa Ricordi che coltiviamo con il cuore perché la nostra è anche e forse soprattutto una comunità di affetti. Nei quattro anni che ci separano dall'undicesimo congresso nazionale al Museo Ferroviario di Pietrarza è successo di tutto. È cambiato il mondo. C'è stato lo tsunami sanitario del Covid-19 e quello economico aggravato dai pessimi speculatori del gas che sono stati capaci di approfittare sia dell'aggressione militare russa in Ucraina che di riacutizzarsi del prudecennare e irrisolto conflitto in Medio Oriente dopo i crimini di guerra messi in atto il 7 ottobre scorso da Hamas a cui sono seguiti altri crimini di guerra praticati dall'esercito israeliano. In un mondo sconvolto da una tempesta perfetta abbiamo assistito al silenzio e all'inazione di fronte alle decine di guerre che si stanno consumando nel mondo e al dibattito infuocato e all'inazione di fronte all'accelerazione dell'emergenza climatica a questo punto staremo a vedere cosa verrà fuori dalla Coppa di Dubai e su entrambe le questioni l'economia della guerra e quella delle fossili hanno finora prevalso sulla diplomazia internazionale e sull'insopprimibile urgenza della pace. Alcuni speragli di speranza però sono evidenti. Li sottoponga la vostra attenzione raccontandovi non una di quelle barzellette famose che iniziano con c'era una volta un italiano, un inglese e un francese ma partendo da una storia vera, importante, contemporanea che parla di un italiano, di un argentino e di una tedesca. Tre figure che hanno segnato in modo straordinario il nostro tempo e che compaiono non a caso tra le prime citazioni dei nostri appunti congressuali perché indicano bene la rotta da seguire nel viaggio che ci attende nel prossimo quadriennio. L'italiano è Sergio Mattarella, il nostro Presidente della Repubblica. Nei quasi nove anni al Quirinale il Presidente è stato un faro luminoso anche nei momenti più bui per il Paese e non ha fatto mai mancare parole di conforto e apprezzamento per il lavoro di quei sei milioni di cittadini e cittadini che animano ogni giorno il mondo dell'evolontariato negli anni in cui più volte si è tentato di ricriminalizzare il mondo delle ONG e discreditare l'associazionismo. E la nostra Vanessa Pallucchi, da portavoce del Foro del Terzo Settore, sa bene a cosa faccio riferimento. L'Argentino è Papa Francesco e questo a proposito di primati è il primo congresso nazionale dove il portavoce del Foro del Terzo Settore è un legambientino, anzi una legambientina. L'Argentino è Papa Francesco una straordinaria guida che durante il suo popato con le encicliche e gli interventi pubblici ha più volte indicato la strada alla grazia e dirigente mondiale dal mondo istituzionale a quello produttivo su quello che bisogna fare e sull'urgenza delle azioni per salvare il pianeta da crisi climatica, inquinamento, guerre e ingiustizie sociali. La tedesca, infine, è Ursula von der Leyen la Presidente della Commissione europea palladina del Green Deal non un'ambientalista scatenata ma un esponente del Partito Conservatore di quella Germania dove, a prescindere dai governi e dal colore delle maggioranze si continua a investire in politiche energetiche e climatiche sempre più ambiziose nell'interesse della loro nazione per occupare, prima di altri paesi il mercato mondiale delle tecnologie pulite esattamente il contrario di quello che si fa in Italia ormai da troppi anni citando la canzone degli SCDC la von der Leyen un anno fa ha ricordato alla COP27 di Charme Shake che nell'era della crisi climatica non dobbiamo prendere l'autostrada per l'inferno e dobbiamo fare più in fretta rispetto a quanto fatto finora il punto è esattamente questo il destino del pianeta dipende dalla velocità con cui metteremo in pratica la riconversione ecologica secondo l'ultimo World Energy Investment dell'Agenzia Internazionale sull'Energia non proprio una fonte ambientalista gli investimenti si stanno spostando sempre di più verso le fonti pulite nel 2023 nel mondo per ogni dollaro speso in combustibili fossili ne verranno spesi 1,7 in energia pulita cinque anni fa questo rapporto era 1 a 1 stiamo vincendo lo dicono chiaramente questi dati ma serve accelerare ancora di più in un mondo in cui si scontrano due visioni diametralmente opposte la prima visione è quella secondo la quale la transizione ecologica deve essere giusta ma fatta con cautela perché non deve lasciare indietro nessuno lo hanno detto in più occasioni nell'ultimo anno la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni il Ministro Matteo Salvini ma anche il Governatore Stefano Bonaccini e il Sindaco del Partito Democratico di Ravenna Michele De Pascale da uno dei distretti nazionali degli trogarburi è una visione trasversale che nella narrazione usa le nostre stesse parole d'ordine ma contrariamente a noi che lo facciamo per tutelare i più deboli loro lo fanno soprattutto per allungare nel tempo i profitti delle imprese, delle fossili e del sistema produttivo che ci ha portato ai drammatici eventi estremi sempre più responsabili anche in Italia ormai di danni miliardari e perdite di vita umana noi siamo invece sostenitori, convinti e fautori della seconda visione la transizione ecologica proprio per essere giusta e non lasciare indietro nessuno deve essere fatta bene e velocemente come chiedeva Lega Ambiente già negli anni Ottanta quando parlava di riconversione ecologica dell'economia italiana nella lotta alla crisi climatica infatti vincere lentamente equivale a perdere e noi questa sfida epocale vogliamo vincerla affinché questo avvenga noi non possiamo restare neutrali dobbiamo lavorare per fermare il partito trasversale della lentezza e far prevalere quello della velocità anche in Europa questo scontro è molto evidente quella Europa che nella storia di Lega Ambiente abbiamo spesso considerato come il nostro centro di gravità permanente per dirle con le parole di Franco Battiato l'Europa spesso ha fatto rimediare all'Italia i rodi madornali basti pensare alla realizzazione del depuratore di Milano di vent'anni fa alla chiusura della discarica di Malagrotta a Roma di dieci anni fa alla costruzione dei depuratori mancanti alla bonifica delle discariche abusive in diverse regioni italiane interventi che chissà quando si sarebbero concretizzati senza la pressione o le multe europee l'Europa ha fatto anche degli errori e lo stiamo vedendo anche nelle ultime settimane ad esempio a proposito di agricoltura ci mancherebbe ma il bilancio delle sue azioni sui temi ambientali energetici o climatici resta sempre assolutamente positivo per stare alla sua ultima straordinaria azione strategica da quando è stato lanciato nel 2019 abbiamo sempre pensato che il Green Deal non fosse solo una roadmap condivisibile e fattibile per la decarbonizzazione dei 27 Paesi membri al 2050 ma anche e soprattutto una chiave per la competitività e la leadership europea nel mercato mondiale delle tecnologie pulite stiamo esistendo invece ad uno scontro che nel futuro avrà degli esiti sicuramente paradossali siamo certi infatti che chi oggi in Italia alimenta con grande forza una narrazione contraria al Green Deal europeo domani sicuramente sarà tra coloro che si lamenteranno per l'invasione delle tecnologie cinesi statunitensi o tedesche sul mercato italiano ma se rallentiamo sulla transizione come stiamo facendo invece di accelerare questo è il destino che attende il nostro Paese e noi non vogliamo che questo succeda quella coltro in Green Deal la consideriamo a tutti gli effetti un'azione contro gli interessi nazionali ad esempio sul nuovo regolamento europeo sui motori a combustione interna invece di perdere tempo chiedendo la deroga sui biocarburanti che non arriverà mai accompagniamo da subito il passaggio dell'automotivale elettrico riconvertendo tutta la filiera produttiva italiana compreso l'indotto per arrivare prima degli altri Paesi e per aiutare le piccole e medie imprese del settore e i loro occupati a cavalcare l'onda crescente che non fermerà nessuno della mobilità elettrica nel mondo invece di rimanerne travolti perché siamo rimasti fermi invece di lamentarci della direttiva europea sulle case Green raccontandola come una patrimoniale per i proprietari di case andrebbero accelerati gli investimenti sugli edifici evitando ovviamente gli errori fatti nel passato con i vari bonus edilizi a partire da quello sulle facciate dando certezza a famiglie e imprese per realizzare nei prossimi 10-15 anni quegli interventi che ci permetteranno di non pagare l'unica vera patrimoniale di cui non si parla mai quella delle bollette energetiche impazzite a causa delle speculazioni sul gas sarebbe una grande operazione di riqualificazione energetica oltre che antisismica degli edifici costruiti spesso in modo scadente sotto diversi punti di vista nella seconda metà del Novecento che ridurrebbe fortemente i consumi di gas fossile per il riscaldamento e gli usi domestici con un riordino della normativa che da una parte dovrebbe semplificare gli iter di abbattimento e di ricostruzione degli edifici e dall'altra parte fermare il consumo di suolo che continua a correre su tutto il territorio nazionale sarebbe una parte di quella strategia totalmente assente in Italia per liberarci dalla dipendenza dal gas importato dall'estero e non solo da quello della Russia che invece il governo Meloni in continuità con quello Draghi sta alimentando sempre di più come dimostra anche il degredo energia dei giorni scorsi con cui si sono dichiarati di pubblica utilità indifferibili e urgenti i rigassificatori a terra a partire da quelli di Gioia Tauro in Calabria e Porto Empedico in Sicilia con cui continueremo ad acquistare sempre più gas liquefatto da paesi come il Qatar gli Stati Uniti l'Algeria e addirittura l'Egitto con buona pace della memoria di Giulio Regeni Dopo l'aggressione militare russa in Ucraina è stato chiaro a tutti che era necessario accelerare per rendere indipendente nel più breve tempo possibile l'Italia dai paesi produttori di combustibili fossili spingendo con forza sulle fonti di energia rinnovabile in primis sole e vento che non dobbiamo acquistare da nessuno facendo lo stesso anche sugli accumuli e sulle reti e invece tra nuovi rigassificatori e gasdotti e il decreto sulle aree idone che rischia di deprimere lo sviluppo delle rinnovabili tra il Ministero della Cultura che asseconda quei no delle sovrintendenze con cui si alimentano insopportabili perdite di tempo perché serve sempre l'intervento di Palazzo Chigi a dibanare il conflitto col Ministero dell'Ambiente e le regioni che non investono in personale competenze negli uffici chiamati a rilasciare le autorizzazioni allontaniamo nel tempo la sovranità energetica del nostro Paese con buona pace di questa parola molto caro al nuovo governo e evidentemente sovranista ma non sull'energia l'Italia deve abbassare il freno a mano e spingere il piede sull'acceleratore della transizione ecologica non lo stiamo facendo il governo Meloni sta lavorando al piano Mattei per l'Africa ricordando in modo esplicito una figura storica dell'industria italiana delle fossili sicuramente innovatrice negli anni del secondo dopoguerra per il sistema geopolitico mondiale di allora lo era 70 anni fa quando invece oggi dovremmo lavorare e lo dico con il massimo rispetto a redigere un piano Bergoglio per l'Africa seguendo quanto il Papa ha più volte detto sulla lotta planetaria alla crisi climatica e scritto nell'enciclica Laudato Si e nell'esortazione Laudato Deum il partito della lentezza della transizione ecologica è trasversale e ha tanti leader non solo in quello politico ce ne sono nel mondo imprenditoriale in quello istituzionale non elettivo e in quello ambientalista anche non è un caso che il nostro dodicesimo congresso nazionale sia stato organizzato in questo luogo simbolico siamo nell'auditorium dell'istituto massimo dove si è formata una parte della grasse dirigente imprenditoriale del nostro paese qui ha studiato anche Mario Draghi tra gli altri siamo a un chilometro di distanza dalla sede di Confindustria siamo a due chilometri dal palazzo dell'Eni sotto al quale i nostri giovani hanno organizzato un flash mob divertente e particolarmente pregnante questo ci ha sembrato il posto migliore per lanciare la sfida ai rallentatori del nostro paese tra leader del partito della lentezza ci sono anche alcuni rappresentanti delle istituzioni penso a quei sovrintendenti che hanno sempre dato parere negativa ai progetti di impianti industriali a fonti rinnovabili o di fotovoltaico integrato sui detti dei centri storici mentre chiudevano gli occhi quando si diffondevano nelle città italiane le antenne tv le verande, i serbatoi dell'acqua le parabole satellitari e i motori dei condizionatori d'aria deturpando davvero in questo caso la bellezza e il panorama mozzafiato sulle città d'arte del nostro paese nel partito della lentezza della transizione ecologica non mancano anche quegli ambientalisti che guardano il dito degli scienziati mentre la scienza ci sta indicando la luna pensa a quelle associazioni come Italia Nostra gli Amici della Terra che supportano le proteste contro gli impianti ollici perché al loro modo di vedere vogliono salvare il paesaggio quando invece sarà proprio grazie allo sfruttamento del vento oltre che del sole se riusciremo a fermare l'unica devastazione paesaggistica che ci ossessiona davvero quella purtroppo permanente che causerà la crisi climatica su tutto il territorio nazionale se non contribuiamo dall'Italia infatti a fermare l'emergenza climatica con le tecnologie pulite che ci libereranno dalle fonti fossili nei prossimi decenni rischiamo di avere territori desertici nelle regioni meridionali e nelle isole territori lunari post alluvione come abbiamo visto recentemente in Romagna e Toscana montagne al nord senza più ghiacciai come stiamo raccontando con il Comitato Glaceologico Italiano da qualche anno a questa parte perdita irreversibile di obbiversità e invasioni di specie aliene se si vuole davvero salvare il paesaggio italiano si deve facilitare la realizzazione degli impianti a fonti rinnovabili integrandoli nel panorama con un'adeguata progettazione altrimenti si diventa corresponsabili del disastro climatico e di quello paesaggistico che ne consegue tra i rallentatori ci sono ovviamente anche i fattori del ritorno del nucleare in Italia a cui mi verrebbe da rispondere solo con la strofa della canzone di Lucio Battisti ancora tu senza perdere troppo tempo che non abbiamo però qualcosa la vorrei dire innanzitutto lo dico ai giovani non ai nostri giovani ma a quei giovani che continuano a dire giustamente agli adulti che non c'è più tempo da perdere nella lotta alla crisi climatica giusto ma voi non perdete tempo con una tecnologia che non ha mai risolto i problemi noti a partire da quelli della sicurezza e della produzione di scorie ed è nei fatti in via di estinzione è in via di estinzione anche nei numeri basta leggere le proiezioni dell'International Energy Agency nel 2001 nel mondo le rinnovabili hanno prodotto il 28% dell'elettricità mondiale il nucleare solo il 10% nello scenario più conservativo al 2050 le rinnovabili saliranno al 65% mentre il nucleare scenderà al 9% secondo lo scenario più ambizioso al 2050 le rinnovabili arriveranno all'88% nel mondo mentre il nucleare scenderà all'8% il nucleare serve per abbassare le bollette? davvero? chiedetelo in Francia dove EDF la nota azienda elettrica d'oltre Alpe è stata appena rinazionalizzata per ripianare i clamorosi indebitamenti causati dai ritardi del cantiere della centrale in costruzione a Flamanville in Normandia e dai problemi di manutenzione straordinaria di decine di centrali attive sul territorio nazionale si tratta di una storia già vista secondo cui i debiti si condividono sempre con i contribuenti e si tratta sempre degli stessi motivi che sono alla base dell'agonia nucleare nel mondo basta leggere i numeri su quanti reattori sono stati spenti e quanti avviati ogni anno negli ultimi anni con buona pace di quello che sostiene la velletaria propaganda nuclearista italiana il nucleare è morto il nucleare è morto, fatevene una ragione ma poi permettetemi una domanda innocente siamo nel pieno della rivoluzione democratica della produzione di elettricità che abbiamo invocato per decenni che sarà ancora più sviluppata grazie alle comunità energetiche abbiamo un sistema nazionale che è passato da un centinaio scarso di grandi centrali elettriche attive negli anni 80 di proprietà di una sola azienda al milione e 400 mila impianti di produzione di elettricità attivi oggi in Italia di proprietà di centinaia di migliaia di produttori quasi sempre singole famiglie grazie al boom delle rinnovabili in primis del fotovoltaico e qualcuno pensa di tornare a centralizzare la produzione di elettricità per essere di nuovo dipendenti da poche potenti multinazionali di turno? a questa domanda rispondo con un intercalare romano ma di che state a parlare? abbiamo sempre detto che è giusto investire nella ricerca sul nucleare di quarta generazione ma considerando che l'essere umano ha impiegato sette anni per andare sulla luna se dopo vent'anni non se ne è ancora venuti a capo qualche domanda in più dovremmo cominciare a farcela l'unica cosa da fare con urgenza è quella che chiediamo dagli anni 90 realizzare in Italia il deposito unico per lo smaltimento definitivo delle scorie a media e bassa attività mentre quelle poche volumetrie ad alta attività possono essere smaltite nel deposito internazionale previsto dalla direttiva europea avevamo sperato che la ripartenza la carta nazionale delle aree potenzialmente idonee col governo Conte II potesse portarci alla carta nazionale delle aree idonee e infine alla conclusione del percorso con l'individuazione del sito secondo una procedura scientifica inattaccabile e invece col degredo energia del governo Meloni dei giorni scorsi si sta mettendo colpevolmente in discussione quella procedura dettata dalla scienza con un criterio nuovo di autocandidature che alimenterà discussioni e conflitti come abbiamo già visto nel 2003 con la scerta di poco arbitraia di Scanzano Ionico varata dall'allora governo Berlusconi e ritirato dopo qualche settimana in seguito alla sollevazione popolare della Basilicata una ribellione pacifica che contribuimmo allora a far nascere e crescere il deposito delle scorie redattive va fatto ma senza nuovi colpi di mano che purtroppo intravediamo all'orizzonte i rallentatori della transizione ecologica rischiano di far travolgere l'economia italiana dallo tsunami distruttivo della crisi climatica lo dice il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica chi si agita sostenendo che le rinnovabili rubano suoli agricoli dovrebbe leggere quello che ha scritto il Ministero nel suo piano nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici in via di approvazione nel capitolo sui danni all'agricoltura italiana che rischia di perdere alcune produzioni agroalimentari grazie alle quali è famosa nel mondo con perdite stimate dal Ministero in 12,5 miliardi di euro al 2050 chi si agita sostenendo che gli impianti ollici a terra e a mare danneggiano l'economia turistica dovrebbe leggere quello che ha scritto il Ministero dell'Ambiente nel capitolo del piano sui danni al turismo italiano causato dall'innalzamento delle temperature medie che sposteranno flussi turistici in altri Paesi con rischio di perdere tra i 17 e i 52 miliardi di euro di fatturato del settore i ralentatori rischiano di alimentare quei suicidi produttivi del nostro Paese che a volte non è riuscito a volte a salvaguardare i suoi gioielli di famiglia penso alla fabbrica di produzione di tubi a salifusi per gli impianti solari a concentrazione che fu realizzata a Massamartana in Umbria industrializzando il brevetto Enea promosso da Carlo Rubbia in seguito all'impossibilità di realizzare in impianti tra vizi burocratici, ritauti autorizzativi, sindrome NIMB e NIMTO la fabbrica è stata smontata e successivamente rimontata in Cina dovremmo imparare da quegli errori ma non lo stiamo facendo penso anche all'unico impianto al mondo, quello di Adria, in provincia di Rovigo che è in grado di produrre dagli scarti agricoli il butandiolo intermedio fondamentale per la produzione delle bioplastiche compostabili che si è dovuto fermare nei mesi scorsi perché affronta gli stessi obblighi e gli stessi costi degli impianti che producono il butandiolo da petrolio e che non siamo riusciti a difendere dalle importazioni del prodotto dai paesi che lo producono in modo molto più inquinante il nostro paese continua ad andare a velocità diverse seguendo una rotta per noi incomprensibile i ricassificatori galleggianti di Piombina e Ravena sono stati autorizzati in sei mesi un impianto eolico mediamente ci impiega sei anni lo stesso possiamo dire sul fronte della lotta all'illegalità un tema caro a questo governo perché in Italia grazie a uno dei primi degredi del governo Meloni forse il primo chi organizza un rave commette un delitto e rischia fino a sei anni di reclusione mentre i reati delle agromafie sono ancora di serie B e sono fuori dal codice penale il nostro paese continua ad assumere decisioni o alimentare discussioni che sono a dir poco surreali il governo Meloni ha fatto ripartire l'iter per la realizzazione del ponte sullo stretto di Messina un'opera che costerebbe dagli 11 ai 13,5 miliardi di euro in base alle diverse stime governative per collegare alla Calabria quella Sicilia dove oggi per andare da Trapani a Ragusa si impiegano 13 ore e 12 minuti cambiando quattro treni regionali e a proposito di discussioni surreali ci si lamenta che i progetti di impianti olici offshore in Adriatico disturbano il panorama e possono creare problemi al turismo e contemporaneamente però si auspicano nuove piattaforme di estrazione di gas dai fondali marini vicino alla costa italiana per evitare che la Croazia si prenda il gas che sta sotto al mar Adriatico quindi in sostanza le paleoliche devono essere fatte lontano dalla vista mentre va bene vedere sotto costa nuove piattaforme offshore di estrazione di hidrocarburi spesso sembriamo un paese senza bussola che non sa dove andare noi invece abbiamo le idee chiare su dove deve andare il paese vogliamo evitare al nostro paese di prendere l'autostrada per l'inverno e lo vogliamo accompagnare lungo la scala per il paradiso per dirla con le parole della canzone delle Zeppeli domani mattina le nostre delegate e i nostri delegati si divideranno in dieci gruppi di lavoro o meglio in dieci cantieri di idee elaborando proposte concrete e confrontarci con oltre 40 ospiti per consolidare quei dieci pilastri della transizione ecologica già presenti in Italia che vanno dalla rivoluzione energetica all'economia circolare dalla mobilità sostenibile all'agricologia dallo stop all'inquinamento alla riconversione industriale dall'adattamento alla crisi climatica alla rigenerazione urbana e delle periferie dal protagonismo dei giovani alla lotta all'ecomafia e all'illegalità dallo sviluppo delle aree protette alla tutela della biodiversità in questo fine settimana ci impegniamo a radigere il nostro piano per un'Italia più verde, più innovativa e più inclusiva una vera e propria roadmap da sottoporre al paese dal governo Meloni alle regioni fino ai comuni e non è la prima volta che lo facciamo lo avevamo già fatto col governo Conte II quando agli stati generali dell'economia a Villa Panfili a Roma nel giugno 2020 avanzammo le nostre 33 proposte di riforma e 170 obbe repubbliche da realizzare al governo Draghi da poco insediatosi nel marzo 2021 presentammo il nostro PNRR con 23 priorità di intervento 10 opere faro 63 progetti territoriali da finanziare 5 riforme trasversali da approvare lo abbiamo fatto anche nel settembre 2022 durante l'ultima campagna elettorale per le politiche quando abbiamo organizzato un tool elettorale in 15 giorni per presentare ai candidati le nostre 100 proposte suddivise in 20 ambiti tematici con tanto di riforme e penso che sia anche opportuno, molto opportuno farlo per le prossime elezioni europee del giugno 2024 per sostenere le ragioni del Green Deal con l'auspicio di rafforzarlo ulteriormente i prossimi quattro anni saranno decisivi e noi vogliamo fare la nostra parte per dirla con le parole di John Kennedy non ci poniamo la domanda su cosa la transizione ecologica possa fare per noi piuttosto ci interroghiamo su cosa noi possiamo fare per la transizione ecologica nell'ultimo anno in preparazione di questo congresso nazionale abbiamo condiviso tutti insieme una scelta chiara vogliamo essere attori protagonisti del film sulla riconversione ecologica del nostro paese e passando dal cinema allo sport non vogliamo assistere alla partita della transizione ecologica italiana della tribuna ma abbiamo deciso di giocarla in prima persona per vincere la partita però non è sufficiente la nostra associazione occorre una squadra ben assortita con diversi top player nella squadra non servono sicuramente gli ambientalisti che si limitano a dire solo no al gas alle fossili, alle discariche e agli inceneritori e agli investimenti del vecchio modello produttivo sono fondamentali invece quegli ambientalisti che sanno combattere con efficacia le scelte sbagliate e contemporaneamente facilitano la costruzione dell'alternativa e cioè le opere, gli impianti e le infrastrutture utili quegli ambientalisti che si sporcano le mani e mettono la faccia anche per migliorare i progetti presentati va proprio in questa direzione l'alleanza strategica con Greenpeace e WWF quella col Kyoto Club e Transport and Environment a cui si è giunta quella innovativa con il FAI sul tema dei paesaggi rinnovabili nella squadra sono fondamentali i rappresentanti istituzionali che vogliono sciogliere i nodi irrisolti pensa ad esempio al comune di Ragusa il sindaco parlerà domenica mattina che ha approvato un regolamento edilizio per installare il fotovoltaico integrato sui tetti anche nel centro storico compreso quello di Ibla di una delle capitali del barocco siciliano penso alle dirigenti della regione Campania che hanno accelerato l'iter autorizzativo degli impianti industriali alimentati a fonti rinnovabili rispettando i tempi previsti dalla legge e proponendo alle aziende al posto delle tradizionali azioni compensative la realizzazione delle comunità energetiche rinnovabili nella squadra sono fondamentali le aziende più innovative che praticano con le loro attività quello che noi predichiamo da 43 anni il ruolo delle imprese più coraggiose sarà decisivo per compiere la transizione ecologica e lo dico senza giri di parole anche perché in questi ultimi anni abbiamo incontrato più ambientalisti nel mondo imprenditoriale che in alcune associazioni riconosciute con decreto dal Ministero dell'Ambiente che sono note solo per il loro no a tutto nella squadra sono fondamentali i rappresentanti del mondo del lavoro che a fronte degli scenari telliberi di chiusure produttive tagli occupazionali non difendono a prescindere il lavoro che non ha più futuro che produce purtroppo solo una costosa e frustrante assistenza ma chiedono come noi investimenti sull'innovazione di processo e prodotto che garantiscono occupazione nuova e occupazione duratura nella direzione della decarbonizzazione e della modernizzazione del nostro Paese nella squadra sono fondamentali i rappresentanti di magistratura forze dell'ordine e denti di controllo perché la transizione ecologica dovrà essere pulita anche nella fedina penale Nella squadra saranno fondamentali anche il mondo della ricerca dell'università e della scuola per formare le giovani generazioni al nuovo scenario della decarbonizzazione e alimentare con l'innovazione i processi di rivoluzione green del sistema industriale Nella squadra sono fondamentali anche i cittadini che dovremo coinvolgere per alimentare dal basso quella voglia di conversione ecologica al centro dei pensieri di Alex Langer e renderli protagonisti della riconversione ambientale del Paese Di questa squadra farà parte tutta la nostra associazione dalla direzione nazionale ai circoli locali passando per i comitati regionali come condiviso nella stagione congressuale che si sta chiudendo Vogliamo far aprire e chiudere in tempi brevi i cantieri che servono per rendere più moderna l'Italia e parallelamente ci impegneremo per non far aprire quei cantieri sulle fonti fossili che minacciano l'indipendenza energetica e alimentano la crisi climatica Col massimo rispetto per i tanti pensionati che lo fanno quotidianamente non staremo oltre la recensione a guardare i cantieri da fuori Ci rimboccheremo le maniche indosseremo il caschetto giallo entreremo nei luoghi del cambiamento ci metteremo faccia, anima e cuore per migliorare i progetti imperfetti puntando sulle migliori soluzioni disponibili e per far realizzare quegli impianti quelle opere e quelle infrastrutture nel più breve tempo possibile e quando sarà necessario ci metteremo a fare da capocantiere come ci è successo tante volte nella nostra storia lo abbiamo fatto nell'approvazione delle leggi sugli ecoreati per inserire i delitti ambientali nel codice penale come sa bene il capocantiere Enrico Fontana lo abbiamo fatto nel sostegno nei fatti solitario alla realizzazione della bioraffineria di Porto Torres in Sardegna nella nascita e nello sviluppo di alcune aree protette sul territorio nazionale nei progetti europei sulla convivenza tra esseri umani e grandi predatori che non si gestiscono con i fucili nella reconversione di aziende agricole anche di grandi dimensioni verso il biologico e più in generale verso l'agricologia nell'accompagnare gli allevatori ad abbandonare il motello intensivo tradizionale passando ai sistemi biologici e a quelli fondati sul benessere animale come sa bene il capocantiere Angelo Gentili lo abbiamo fatto nell'elaborazione di progetti innovativi come il GRAB il grande raccordo anulare delle bici di Roma o quello degli impianti fotovoltaici a terra trasformatisi in agrivoltaico grazie al nostro contributo in Val di Cornia in Toscana o a Giuliano in provincia di Napoli nei progetti di rigenerazione urbana come la realizzazione di vie scolastiche da Catania a Sant'Arpino in provincia di Caserta la creazione di comunità energetiche rinnovabili e saludali come quella di Napoli Est la trasformazione di aree degradate perché abbandonate dalle istituzioni in luoghi di aggregazione sociale in collaborazione con altre associazioni come è venuta a Scampia o ai giardini Baden-Powell di Barletta vogliamo innescare la reazione chimica del cambiamento vogliamo essere enzimi per velocizzare i processi di trasformazione che ci sono dietro alle due parole rivoluzionarie e transizione ecologica vogliamo essere promotori del cambiamento nel rispetto del principio delle tre C che contraddistinguono la nostra storia associativa la C del coraggio la C della coerenza e la C della concretezza vogliamo essere promotori del cambiamento in tutta Italia nelle metropoli nei capoluoghi nelle città nei piccoli comuni nelle aree montane vogliamo essere promotori del cambiamento perché come insegna la storia del nostro paese per liberare l'Italia dalla dittatura delle fossili dell'economia circolare servono i partigiani della transizione ecologica e noi ci riteniamo tali vogliamo essere promotori del cambiamento perché siamo convinti pacifisti e lo siamo a 360 gradi scendiamo in piazza contro ogni guerra e contemporaneamente difendiamo sul territorio la realizzazione degli impianti e delle opere che servono al paese lo facciamo perché siamo consapevoli che realizzare parchi eolici a terra e a mare impianti fotovoltaici sui tetti il fotovoltaico a terra nelle aree degradate e inquinate lungo le autostrade e le ferrovie l'agrivoltaico che integra produzione agricola ed elettrica digestore anaerobici per produrre composto e biometano impianti industriali per recuperare le materie critiche dai rifiuti tecnologici decarbonizzare i cicli produttivi energivori a partire dall'ex silva di Taranto serve a ridurre la dipendenza italiana dall'estero a diminuire le tensioni geopolitiche che alimentano quei conflitti accesi per accaparrarsi fonte energetiche fossili o materie prime naturali lo facciamo perché siamo profondamente convinti che praticare la transizione ecologica è una efficace e duratura operazione di peacekeeping internazionale vogliamo essere promotori del cambiamento perché la nostra idea di paese è già realtà in diversi territori ma deve essere replicata nel resto d'Italia la nostra idea di paese è già realtà in quei territori dove lavorano oggi 3,2 milioni di persone impegnate nell'economia verde secondo i dati di fondazione simbola Union Camere la nostra idea di paese è già realtà in quei territori oggetto delle tappe della campagna itinerante sui cantieri della transizione ecologica partita nel maggio scorso dalla fabbrica di pannelli fotovoltaici Enel di Catania e che ha visitato cartiere, vetrerie, fonderie, aziende agricole imprese dell'economia circolare imprese impegnate in progetti che vanno in quella direzione depuratori, fabbriche di pompe di calore quartieri della rigenerazione urbana ed edifici a basso impatto la nostra idea di paese è già realtà in quei territori dove c'erano impianti arrugginiti e noi vedevamo futuri stabilimenti innovativi realizzati al loro posto come è avvenuto a Porto Torres con la via raffineria come avverrà all'ex Whirlpool di San Giovanni a Teduccia a Napoli e come speriamo possa avvenire anche all'ex GKN di Campi Bisenzio in provincia di Firenze siamo convinti che la nostra idea di paese permetterà all'Italia di superare i cui divari territoriali tra nord e sud irrisolti da 150 anni che rischiano di essere alimentati ulteriormente col modello di autonomia differenziata al centro del dibattito sugli assetti istituzionali se faremo infatti tutte le opere gli impianti e le infrastrutture che servono al centro sud e alle isole garantiremo alle figlie e ai figli del meridione d'Italia di scegliere se rimanere a lavorare nella propria regione possibilità che oggi non è garantita se faremo tutto questo potremo addirittura innescare quelle migrazioni al contrario che vedranno accanto al ritorno di chi è stato costretto ad emigrare i figli del nord andare a lavorare nel sud Italia e riusciremo a chiudere una volta per tutte il dibattito infinito sulla questione meridionale che ha riempito libe di storia ma senza risultati concreti chiudo su di noi nei prossimi quattro anni servirà la migliore lega ambiente è un nuovo patto associativo fondato sulla massima condivisione e sul massimo coordinamento tra livelli territoriali dell'associazione avanzando a testugine romana dovremo usare tutto il tempo che abbiamo impiegato negli ultimi quattro anni per ragionare internamente sulle opere che servono all'Italia e dovremo impegnarlo per spiegare al mondo fuori di noi che tutto questo si deve fare nei vostri territori non in un altro giardino non in un altro mandato elettorale ma lì e subito dovremo fare sempre più tesoro delle competenze e dell'esperienza di chi era giovane negli anni 80 e 90 e contemporaneamente dell'innovazione, dell'entusiasmo e delle nuove sensibilità dei giovani di oggi e penso all'ecoanzia, all'alimentazione e alla fast fashion perché la nostra storia insegna che grazie al mix tra generazioni associative siamo riusciti nelle conquiste più impensabili aggiungo una cosa su questo ai più giovani lasciamogli spazio diamogli fiducia lasciamoli sbagliare perché anche noi quando avevamo la loro età a volte abbiamo sbagliato senza dimenticare che si sbaglia anche di adulti come successo a Phil Collins durante la sua esibizione sul palco di Wembley a Live Aid del 1985 quando era all'apice della sua carriera dovremo alimentare la speranza del cambiamento anche nei luoghi più difficili o nelle persone che l'hanno persa spiegando cos'è il colore a chi vede in bianco e nero per citare una strofa di una canzone dei Maneskin dovremo continuare a allargare la base associativa aprendo porte e finestre a chiunque voglia darci una mano con la consapevolezza che abbiamo bisogno di tutti di futuri leader e di aspiranti greganti gregari scusate non ci abbiamo bisogno di greganti mi correggo scusate dicevo che abbiamo bisogno di tutti di futuri leader e di aspiranti gregari perché parafrasando i pinguini tattici nucleari in un mondo di Paul e John è importante anche ringostar dovremo moltiplicare gli sforzi per cambiare il futuro del nostro paese facendolo anche in modo originale nella storia a volte è bastata una foto per cambiare il destino di alcuni luoghi è stato così per le strisce pedonali di Abbey Road a Londra immortalate nella foto di copertina dell'ultimo album dei Beatles è stato così per la centrale termoelettrica di Battersea nella capitale inglese fotografata col pallone a forma di maiale per la copertina dell'ambu Animals dei Pink Floyd negli oltre quattro decenni di vita associativa tante volte abbiamo fatto delle foto che hanno cambiato la storia del paese pensa a quei blitz di coletta verde che hanno portato all'abbattimento degli ecomostri di cemento che deturpavano la costa italiana dall'hotel Fuenti a Viedri sul mare a Punta Perotti sul lungomare di Bari e non eravamo in tanti a difendere il paesaggio allora il paesaggio italiano o alle foto fatte ai palazzi anneriti dallo smog su cui avevamo fatto esporre le lenzuola di malaria che hanno portato poi alla chiusura al traffico di vie, piazze e centri storici in tante città italiane ognuno di voi può raccontare una storia simile che ha cambiato in meglio il vostro territorio grazie al lavoro associativo la missione però come evidente non è ancora compiuta e allora scateniamo la fantasia tiriamo fuori gli smartphone attiviamo le fotocamere ci sono ancora tante foso da scattare e tanti cambiamenti da innescare la prossima generazione quella di cui parla anche la Costituzione italiana aspetterà il buon esito del nostro lavoro nei prossimi anni sono certo che tutti insieme faremo l'impossibile per non deluderla vi abbraccio forte e vi auguro un buon congresso grazie 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 grazie